sorvoliamo la sardegna in verità sono salito sul ponte e sto osservando alghero lo sto riconoscendo anche la zona in cui abito è rappresentata da quei mini alberelli sono dei piccoli olivi sparsi per tutta la città di alghero visto che è forse la città italiana che produce il miglior olio italiano il san giuliano fa parte della top ten mondiale il san giuliano da questa parte vediamo la punta più elevata della sardegna ovvero la zona di stintino porto torres più stintino che porto torres e in fondo l'isola della sinara la barchetta che ci accompagnerà nel fare la circunnavigazione della sardegna e di qua vediamo probabilmente è un medo la strada che porta dal ghero a sassari perché a sinistra vediamo se ho fatto altre riprese comunque c'è la famosa cattedrale sassarese una cattedrale che è stata definita la la cattedrale delle bestie di daniele perché rappresenta in in maniera molto dettagliata le bestie dei capitoli 7 e 8 del libro biblico di daniele grazie a tutti grazie a tutti